segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te le chiedo una cosa perché in italia c'è una leggenda che la a proposito di debito pubblico che la famosa spending review tutti dicono sono due le leggende spending review e recupero dell'evasione fiscale che sono i due come dire le due promesse che fanno tutti i governi taglieremo la spesa inutile riusciremo e combatteremo l'evasione fiscale avremo i straordinari incassi qualche cosa è stato fatto per l'evasione fiscale spending review è un sogno perché si può fare spendire più lei è lei era un professore universitario e a sorpresa fu chiamato a sorpresa lo posso dire a guidare il ministero dell'economia cioè un professore che studia che conosce diciamo le ricette si è trovato a gestire quel putiferio posso dirlo guarda l'esempio che ho vissuto io ero in un governo diciamo un po bizzarro che si aspettava il disastro i finanziari che poteva suscitare quel governo fece il deficit pubblico più basso degli ultimi vent'anni nei cinque cosa era successo due cose uno la flessibilità ottenuta per gli investimenti secondo tradizione non si tradusse in investimenti ma contrariamente alla tradizione quel margine non fu passato a spesa corrente questo è il primo punto che è stato il dramma dei vent'anni di euro di interessi l'altra questione è questa noi abbiamo un bilancio pubblico che è circa mille miliardi mi pare intorno ai mille miliardi sui mille miliardi basta andare a fare non dico parole altisonanti la spendi review un po di pulizia nel bilancio un punto un punto e mezzo di pil si tira fuori e nessuno se ne accorge perché nessuno si mette intorno a tavolo con le strutture della ragioneria dello stato che sono efficienti uno si mette in tavola incomincia a vedere capitolo per capitolo allora questo è ovviamente questa è solo pulizia del bilancio per cui si può correggere immediatamente dare un segnale diciamo ai mercati un segnale positivo poi la spendi review significa non solo tagli ma passare da spesa di un tipo la spesa corrente a spesa per investimenti oppure ci sono spese che sono che sono registrate come spesa corrente tipo istruzione sanità diciamo quello in capitale umano in generale come si dice può diventare fortemente produttivo produttivo è questo per rispondere al è quello che dicevo prima diciamo dal debito viene anche dal deficit dipende dal deficit appunto il problema è c'è fiducia nella crescita perché poi il debito un debito alto può essere anche interpretato come un credito alto nel senso un paese che merita credito il problema è tutto lì allora noi cosa mostriamo diciamo la la a chi sottoscrive ora il giappone certo tutto il debito mi pare giapponese e tutto e tutto interno e c'è manager sponesi gli stati uniti è una storia diversa debito mondiale diciamo le stati uniti sono gli emittenti del dollaro certo con cui diciamo si fanno pagare da tutto il mondo il proprio il proprio deficit detto in sintesi ecco c'è una novità importante perché non si lascia a fare allora il paglio voglio sentire anche da lei perché anche lei avrà avuto gli stessi problemi a parte quei 34 miliardi che nessuno